Siamo con Francesca Donato, neo deputato europeo appena eletta al Parlamento di Strasburgo per la Lega. Francesca Donato è siciliana di adozione perché vive in Sicilia a Palermo da diversi anni, nonostante lei non sia siciliana d'origine, però ha anche sposato un siciliano. Ecco, quali sono i principali temi su cui verterà la sua azione politica da parlamentare europeo? Ricordiamo che il Collegio Sicilia-Sardegna ha anche eletto un altro parlamentare europeo per la Lega che è stata ospite di Bar Sicilia qualche settimana fa, Annalisa Tardino. Sì, grazie intanto per l'invito. I principali temi su cui mi concentrerò nella mia attività di parlamentare europeo dipenderanno fondamentalmente da quali saranno le commissioni a cui sarò assegnata perché al momento ancora non abbiamo certezza di quali saranno le commissioni di nostra pertinenza. Sicuramente abbiamo potuto esprimere delle preferenze, io ho espresso la preferenza per la commissione Econ che si occupa di politiche economiche e monetarie a livello di Europa, Unione Europea ed Eurozona e poi ho espresso la preferenza alternativa per la commissione Agri che si occupa di politiche agricole e per quella Reggi che parla di sviluppo regionale. Quindi la verità è che ognuno di noi può essere assegnato ad una commissione come titolare e ad un'altra come sostituto. Essere sostituto non significa essere una figura poco importante perché il sostituto può in realtà seguire la commissione tanto quanto il titolare semplicemente ha potere di voto soltanto in assenza di un altro deputato in quell'occasione. Quindi potrò coprirne due di queste tre che ho citato sempre che appunto l'organizzazione del nostro gruppo che ricordo è un gruppo molto numeroso perché noi siamo 28 parlamentari del nostro partito della Lega a Bruxelles e il nostro gruppo che abbiamo formato praticamente con le altre delegazioni estere di cui fanno parte l'assemblement rational di Marine Le Pen, Alternative für Deutschland e altri partiti diciamo euroscettici, cosiddetti populisti del resto d'Europa è formata da attualmente 74 membri e non è detto che aumenti ancora con il tempo se si aggiungeranno altre delegazioni. Cosa riunisce con questi partiti? Beh, allora intanto è importante dire che questo gruppo che fino all'anno scorso si chiamava Europa delle Nazioni e della Libertà ha cambiato nome quest'anno perché è cambiato proprio anche veramente lo spirito, l'obiettivo del gruppo e adesso si chiama Identità e Democrazia e l'obiettivo fondamentale che ci accomuna tutti e sul quale c'è grandissima coesione e convergenza è quello proprio di rivalutare, di dare la massima importanza e la massima dignità alle identità nazionali e appunto al principio democratico questo in cosa si traduce nei fatti? Alla restituzione di quote di sovranità ai governi nazionali dei paesi membri dell'Unione Europea di modo che abbiano maggiore libertà nel determinare le proprie politiche nei vari ambiti di competenza e in questo modo anche rispettare il mandato democratico assegnato loro dai cittadini perché naturalmente il cittadino che vota i propri rappresentanti al Parlamento nazionale oltre che al Parlamento europeo poi si aspetta che il programma che è stato presentato alle elezioni venga realizzato se invece non avviene questo perché tutte le decisioni vengono trasferite ad un'autorità centrale questo non avviene più Secondo lei perché c'è bisogno di più sovranità nazionale? Si era detto che l'Unione Europea doveva essere la cessione di porzione di sovranità per uno scopo comune per un progresso comune del continente, dell'Europa e ora invece si ritorna agli stati nazionali Ma non è un ritorno agli stati nazionali in realtà è semplicemente la constatazione del fatto che ad oggi questo sistema non funziona perché come si dice tutti siamo d'accordo per esempio che ci sono da fare delle riforme però la prima obiezione è che ci dicono ma come fate? Ci vuole l'unanimità è proprio questo il problema che mettere d'accordo su degli identici contenuti 28 paesi diversi è pressoché impossibile è veramente difficilissimo richiede anni e anni di contrattazioni e nel frattempo la ruota gira la vita delle persone continua i problemi vogliono risposte vogliono soluzioni quindi se questa istituzione è composta da tanti paesi con problematiche diverse economie diverse, culture, identità, lingue diverse è forse oggi utopico pensare che possano decidere insieme troppe cose è importante capire che se ci sono troppi interessi diversi politiche diverse, economie diverse, identità, culture, lingue diverse mettere diciamo in un unico calderone delle decisioni che coinvolgono tutte queste realtà diventa controproducente perché non si riesce a trovare un accordo e la vita dei cittadini continua c'è bisogno di risposte alle esigenze alle richieste dei territori che non possono essere dilazionate per anni e quindi c'è bisogno di un sistema più efficiente come si è fatto appunto nel nostro paese in tanti altri il decentramento amministrativo che appunto ha decentrato gli enti locali le decisioni più specifiche dei singoli territori anche in Europa è importante rispettare questo principio di decentramento e quindi nelle materie che riguardano uno specifico territorio lasciare che sia quel territorio a decidere nel nostro caso sono i territori nazionali Ma secondo lei è possibile veramente tornare all'idea di un'Europa dei popoli e non a quello che di fatto ha un po' anche a modo di slogan è stato l'Europa delle banche e dell'alta finanza? Ma deve essere così perché semplicemente se non si prende atto di questa necessità tutta la struttura andrà a rotoli cioè tutti pensano che l'Unione Europea in quanto istituzione così diciamo un po' complessa strutturata sia impossibile da smantellare ma la storia insegna cose diverse cioè è caduto l'impero romano è caduta l'Unione Sovietica sono tutti fatti umani anche l'Unione Europea quindi un domani cioè o si trasforma seguendo le esigenze dei tempi le esigenze della società e soprattutto la richiesta dei cittadini che compongono i paesi che sono entrati nell'Unione Europea oppure non sarà più un'istituzione funzionale e inesorabilmente finirà per crollare per implodere Lei recentemente ha detto dobbiamo invertire il primato della finanza sulla politica e far tornare al centro la politica rispetto alla finanza come? Allora intanto assolutamente necessario perché anche questo risponde al principio di democrazia come? semplicemente facendo sì che lo Stato cioè la politica che chiaramente la vera politica l'attività politica si può esercitare compiutamente solo a livello di Stato nazionale e di territorio anche mettendosi d'accordo su tematiche così importanti nel resto d'Europa riprenda il controllo della economia finanziaria come? Intanto riacquistando il controllo della politica valutaria che può essere fatto o a livello nazionale con appunto il ritorno alle valute nazionali o se viene fatto restando in un'unione monetaria come quella in cui siamo facendo sì che la banca centrale europea non sia più una banca indipendente pura cioè che sia una banca indipendente ma che agisca in coordinamento e anche in subordine laddove necessario della volontà politica espressa dalle istituzioni europee e anche qui mi perdoni per concludere è importantissimo che a livello delle decisioni soprattutto legislative e delle istituzioni europee ci sia un trasferimento della iniziativa legislativa dalla commissione che attualmente la detiene al Parlamento Ecco, lei adesso ha parlato tra le possibilità di un ritorno alle monete nazionali e lei è fondatrice del progetto Eurexit è un progetto visto con molta attenzione anche dalla Lega evidentemente ma attualmente la Lega non parla più quantomeno in questa fase di uscita dall'euro come si concilia il progetto Eurexit con le attuali posizioni del suo partito? Allora, la verità è che io quando noi abbiamo fondato il progetto Eurexit nel 2013 intanto il primo obiettivo era quello di mettere sul tavolo il tema delle criticità dell'eurozona che era allora veramente un tabù non se ne poteva neanche parlare oggi siamo andati molto oltre il dibattito si è approfondito si è parlato in tutte le salse dei problemi dell'eurozona c'è chi la pensa in un modo c'è chi la pensa in un altro di fatto oggi il partito a cui appartengo che è al governo col 17% non ha al suo interno una concorde veduta su questo tema e soprattutto il nostro alleato di governo che è il Movimento 5 Stelle non ha assolutamente questa visione quindi non ci sarebbero neanche volendo non ci sarebbero i numeri aggiungerei nonostante Di Maio qualche anno fa andava in giro con i cartelli no euro sì però è sempre stata una posizione molto ambigua quella del Movimento 5 Stelle quindi oggi non ci sarebbero le condizioni politiche né istituzionali per affrontare questo percorso quindi è un percorso di cui non ha senso parlare io sono una persona molto concreta e credo che sia inutile parlare di cose irrealizzabili quello che invece oggi tutti vogliamo fare sulla quale c'è convergenza di intenti è quello di affrontare un percorso di riforme dell'Unione Europea l'ha ripetuto il Presidente Conte fino a oggi e soprattutto del sistema di impostazione delle politiche economiche dell'Unione Europea e dell'Eurozona in particolare perché sono quelle che hanno creato più problemi soprattutto nello sviluppo, nella crescita economica dell'intera zona Eurozona e in particolare dei paesi dell'area periferica cioè dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Grecia e come si fa? Bisogna sicuramente rivedere i parametri i vincoli di bilancio che sono stati creati e rafforzati negli ultimi anni il famoso Fiscal Compact che è stato poi implementato con altri regolamenti molto più stringenti che hanno inserito per esempio la cosiddetta procedura di infrazione che adesso pende come una minaccia sulla nostra testa e che di fatto hanno creato un sistema nel quale la politica è subordinata al volere dei cosiddetti mercati cioè se l'Unione Europea, la BCE, la Commissione si esprimono in un certo modo negativo nei confronti delle scelte economiche e politiche di un paese membro accade che i titoli sovrani di quel paese membro improvvisamente iniziano ad avere dei rendimenti più alti quindi c'è la cosiddetta salita dello spread il che comporta dei costi di bilancio pubblico che salgono improvvisamente quindi si pone un problema di sostenibilità del debito questo è una vera e propria morsa una vera e propria forma di ricatto per i paesi membri come si disinnesca? Intanto si è dimostrato cioè chi lavora diciamo in questo settore sa benissimo che il ruolo della BCE è fondamentale e la dimostrazione c'è stata l'altro giorno Mario Draghi ha fatto un discorso nel quale ha detto semplicemente rifaremo il quantitative easing possiamo abbassare ancora i tassi improvvisamente lo spread è tornato giù a livelli di anni fa e questo dimostra come i cosiddetti mercati in realtà sono molto sensibili a affermazioni frasi molto più che all'agenda politica del governo molto più questo ma poi soprattutto che la situazione per cui non c'è modo di disinnescare questa volubilità dei mercati è una situazione voluta perché la stessa banca centrale europea se volesse potrebbe garantire cioè se volesse se nello statuto fosse consentito e anche con lo statuto attuale se volesse esercitare in questo modo potrebbe modulare l'acquisto la vendita dei titoli sovrani in modo da diciamo ammorbidire questi effetti in alcuni casi è stato fatto in altri no quindi c'è da metterci mano senta è un'ultima domanda che non c'entra apparentemente con i temi europei lei dicevamo è stata letta in Sardegna ma soprattutto in Sicilia fa politica in Sicilia adesso la farà più frequentemente a Strasburgo e a Bruxelles però tornerà in Sicilia nel collegio sicuramente per seguire le attività anche del suo partito ecco alla luce anche della sua elezione al Parlamento europeo come cambia la Lega in Sicilia o meglio in qualche modo si sta costruendo una classe dirigente nel partito, nell'isola quali sono gli assi su cui si fonda questa classe dirigente? ma il principio fondamentale che impermia la politica della Lega e l'approccio della Lega sui territori è quello della concretezza dell'impegno e della responsabilità verso gli elettori io sono molto contenta di essere stata eletta insieme alla mia collega Annalisa Tardino che appunto è una collega due donne tra l'altro è anche un avvocato come sono io e quindi condividiamo una buona base di preparazione giuridica ma sicuramente anche l'impegno la volontà di lavorare sodo per il nostro territorio per le isole e questo si tradurrà senz'altro in un impegno molto costante sui dossier europei e per esempio se a me sarà consentito di occuparmi dell'agricoltura potrò incidere insomma lavorare proprio sulle politiche europee che vanno poi ad incidere sul lavoro dei nostri agricoltori l'agricoltura è uno dei settori più importanti del nostro territorio, delle isole oppure se sarò nella commissione sviluppo regionale su tutto quanto riguarda i fondi di coesione i fondi strutturali che poi vanno a finanziare quindi queste sono, infatti non a caso ho chiesto queste commissioni perché sono quelle che hanno un impatto diretto più forte sul territorio e mi consentirebbero di mettere mano proprio alle tematiche sulle quali sono stata più allertata anche durante la mia campagna elettorale durante la mia attività fino ad oggi sul territorio e poi per quanto riguarda il resto sicuramente la cassa dirigente di questo partito nell'isola si deve formare dando voce a mio avviso a persone, perché no, giovani motivate, preparate che hanno voglia di mettersi veramente al servizio della cittadinanza e a dare le risposte cioè più che di strategie politiche di temi che non interessano all'uomo medio si deve parlare proprio di contenuti di proposte per risolvere questioni che ormai si trascinano da tanti anni come quella appunto dell'occupazione della deindustrializzazione appunto delle problematiche agricole delle problematiche della pesca delle infrastrutture che sono totalmente carenti ci sono tutti dossier tematiche che attendono risposte da tanti anni e sulle quali io credo che insomma il partito della Lega abbia veramente intenzione di lavorare per fare ciò che non hanno fatto gli altri e quindi non diciamo arrivare ad un punto di sfiducia come sono arrivati gli altri partiti qui perché finora si sono sentite tante promesse ma pochi risultati noi come Lega vogliamo dare delle risposte e portare dei risultati bene ringraziamo l'onorevole Francesca Donato auguriamo a lei buon lavoro per il suo mandato parlamentare che sta per cominciare e grazie sempre a voi lettrici e lettori del Sicilia.it grazie a tutti grazie a tutti